No, perché così vedono le trasformazioni di lupo Ma guarda la live! Io sto da lavoro User left or channel User left or channel Accendi la condivisione Sì, sì, capisco Io faccio informatico No, faccio un cazzo Allora, poi Squadra Tu benzina, riguarda Hai fatto? User left or channel Boh, no Comunque pensavo che hai con voglio Oggi ci sono, mi metto stream anche io Ma non hai palle Che cazzo mi servono qui? Che c'ho? C'ho una pistola Che c'ho? Ah no, c'ho un cazzo, regà C'è un posto a fare la polizia? Sì, sono in live Ah, in live si con lui qua Sì Ma io devo ancora mangiarci, ma no User joined your channel No Ha detto Io ora ci dobbiamo andare in live Molto bello Prendi qui Cioè tu vedi anche questo qua di fronte? Sì Ah, ora prendi questo qua di fronte Ah, no Questo no Non lo vedo Lo vedo qua Cioè io mi accendo con l'account Con un live Rt User joined your channel Ok Almeno di la polizia c'è cazzo dentro Come no Sì, sì C'è aspetta Caricato ieri Di cosa? Se riesce entro oggi Per il convoglio Mi metto streamare io Su l'account Sì User left your channel E vediamo se riesco a entrare Quello è quello Perchè terra Vandarci a acceso grig Ecco 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 Chi è che è inizia? Grazie Fabio per il follow Grazie parlo Se ho il follow bello User joined your channel Perchè ci stanno due Due mappe Sopra quella dell'aci No Non mi cagate al cazzo Che io sono live Guardate No regà Regà Dai Ah c'è pure la paletta qua Vabbè la paletta ce l'hai Dai inutile capio Io so Palle Pure la paletta User joined your channel Sì Elicottero User joined your channel No Me 4 no No ho preso Manco sfugio la poma E dove via No Prendi quello che vuoi User left your channel BPM12 Pistola Paletta Giger E manganello Eh Vedi Vedi un po' sotto Rush Vedi sotto Un attimo Vedi un po' sotto Rush Dopo te lo dico Ciao Checco Pronto Allora Qua Aspetta Oh Ah aspetta Ah aspetta Non c'è sto carincazzo Questa la devo mettere qua Boh Non lo so Vai Qua Sta pistola è carica Un albanese Il ferro sta dietro la schia Vai Ci sto Sì Inghetto Lo dico Ecco Se non mi resti qua Non vogliamo uscire Eh Prima fa dai Che lo fa Tuglia va Prendiamo Ecco Cioè in Giulietta perché La Giulietta è quella di Ehm Non è che non è che Che si deve morire La radio Eh Ripetere Psst Niente Ahia Dice La dark Ma Oddio Che è che sta notando Psst Allievo Allievo Puliziotto Entra Oddio No Psst Buonasera a tutti La bella coppa Esce di servizio Con due operatori A bordo Mamma Buon pattuglia a tutti Psst Anche a voi Ma rush Ma tu puoi che cazzo Le sai quello che dicono Per radio Cioè 12 anni User join your channel Eh si Latte zitto Va Pussi a cuore del latte Porca ma donna Eccolo Eccolo E vabbè Vabbè Andiamo a controllare la droga Simo Visto che abbiamo i punti Adesso Ma non certo Ma non c'è l'ha sistemata Finalmente Psst Adesso Perlomeno Madonna Oddio 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 Ma cosa hai Oddio Ma fermate Oh Che cazzo hai Aspetta 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 Fermate Non me muovo io madonna ma che succede? ah c'è avuto un crampo non c'è stato demorroidi ah aspetta non scendere un crampo ah oddio cazzo demorroidi aspetta un attimo allora che cazzo vai oddio dio è dovuto scendere perchè si era fatto male ragazzi c'è qualche superiore che può aiutare i ragazzi nuovi a fare le pattuglie user nel tuo canale time down user left your channel user joined your channel user joined your channel pss mamma mia è molto bella ok dai allora uscite tutti un attimo in una pattuglia in tre romano capo pattuglia pss 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 no perchè sicursti ho sbagliato strada aspetta con 1.13.Mhz Dieciquattro! Dieciquattro! Ah no! Dieciquattro! Undiciotto! Undiciotto! Settedui! Settedui! Che dolore, raga! Ma che è, oh? La betacoma entra in dieciotto! La betacoma entra in quattro e quattro! Vabbè, io me ne avevo da fare in quattro! Vai piano, vai piano! Hai droghe? Hai droghe? Non ho preso niente comunque! Eh, va piano! No! Vabbè! Si è rotto tanto la macchina! Vabbè, ho detto la brata io! No, dai! La cint... Ah no, questo è il culo! D'attimo, sto picciato! K è la cintura! Cazzo! Scusa! Avanti, avanti! Niente! Niente, raga! Niente! Niente! Stavo andando fuori strato! Avanti! Voto! Scusa! Vado a prendere un'altro punto, vado anche se li ho segnati! Voto! Inter forze, punti C'è la droga! Oh, ehm, siete morti tutti, ehm, allievi? Psst, ma è il modo da rispondere, verrà? Eeeh, siete morti? Psst. Viene venire anche con me? Psst. No, perché non ci faccio vedere più all'armeria. Ma che è questo? Eeeh, siete morti tutti? Oh, Dio, ma che è? Perché hanno cambiato, però non si può, 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 non si può. No, va bene. Ditemi. Vai piano, G. Ma se vai piano, io non laggo. Ah, era per quello. Se non te vedo sbatte a destra e manca. Ah, vado piano. Ok, questo HUD è bellissimo. Mi piace, è veramente bello, molto bello. È molto bello, Dio Duno. Molto bello. Allora, poi, io devo ancora pranzare, tra l'altro. Ok. Puoi mangiare, Simone. Ciao, Lelito. Eh, ma vedo fare l'insalata. Ah, per fare l'ora, vabbè. Ah, per fare l'ora, vabbè. Sì. Questa è la cintura, K. Qui invece è il cruise control. Sì. 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 Poi io lo spieghi che vuol dire Non l'hanno capito Impressante no Allora Jimbo, ripeti Ragazzi, mi fate Ho reso conto dei volanti in servizio per piacere Ho reso conto dei volanti Senti, che Jimbo gli danno Ho reso conto K, grazie Vedi, vedi, il Jimbo Invece io non gli ho risposto subito Ma non gli ha detto ho reso conto Basta parlare con i ragazzi piano Oh, Lupo sei in game Sì, che è? La cortesia Non lo posso prendere io quello? Cosa? Hai visto il negozietto che hai comprato tu là? User left your channel Ma lo posso prendere io quello? No Ma, no Paul, mi spiegate un favore Ce ne sono altri mille, te ne prendi sette No Ti serve lì, perché io ho la casa là e tutto là Eh, vabbè, ma come faccio a levarlo, scusi? Ti andai dentro sul boss menu e poi trasferisci e metti i miei Dei soldi, cioè No, assolutamente per dire dei soldi Cazzo, ho messo il Paul Cioè io non è che me li kivo Ah, io sì Alla, alla, io so Alcuno User left your channel Eh, però vabbè, non lo posso fare adesso Perché dove stai? 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 Eh, sto in live Stavamo sempre in live Ah, vabbè, dai, quando vuoi? Ti vediamo Oh, dai, devo farlo dopo Dai, comunque non è un problema Sì, 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 ok, dai, grazie Qualcuno resta un 62 per chiedere Io sono in live, scusami, eh Io sono in live Eh? Salve, salve, mi fa la riparazione Psst, ecco Grazie Emo la dentro Cos'è che vuoi, dimmi Ah, sei l'annato Non spero, ragazzi, scusa, sta cazzo La macchina è sciascorriciata dentro No, vabbè, andavo dentro No, vabbè, andavo dentro No, vabbè, c'è stata Passata qua Status La scorsa volta la ci mi ha fatto pagare 700 euro di riparazione Sull'auto della polizia Book Rush 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 User joined your channel No, vabbè, andavo da chiamare È un bel nome, lo so Ah, addio, ragazzi Ah, che be... Ah, ah Scorsa volta, quando sono andato da là Ci mi hanno fatto pagare 700 euro di riparazione Col veicolo di stato Beh, sono nicchio No, adesso ci sono io che... Adesso c'è lui Che ho fatto l'assicurazione Adesso c'è lui Sono andato con la Giulietta Mi ha fatto... La Giulietta la polizia mi ha fatto pagare 700 euro Eh, ma il veicolo statale paga lo stesso Vai, vai Poi ci pensa a Jimbo Che lo fa già fatto io l'assicurazione 250 euro al mese Sono andato con il mio rimborso comunque Ecco qua Ecco qua Qui stanno a batti i sordi Adesso io l'ho spesi e non mi hanno rimborsato Bra Beh, ma per la patria si fa, dai Grazie Anche 800 Anzi, guarda, mo ti li levano direttamente Mi è arrivata la macchina Vabbè, dai Grazie Ho lavorato tanto Arrivederci, buon lavoro Aspetta, ci fa morire ammazzato Ti è buon lavoro Dai Ma a dire, dietro Grazie per il follow with home Eh, c'è un mano Vito è diventato un chad Figa chad Allora, qua Insalatina messa Eh, hai capito, Paul? No Allaci, c'è la mappa anche vecchia Ah, mi devi toglierla That's a pain Ma che c'è, padone Oh, no Oh, hai dato sti pedo Ma un caso Deve avere qualora avvio Quindi Sì, sono fatti Però almeno se la toglie Dopo Che c'è la macchina Scordati che io mi metta lì a dire i codici Eh, te lo dico No, sono 0,1 Ma no, no Ma no Non c'ho tempo io te sta lì a dire i codici Ma tu sei che è 0,1 Che è? Eh, il pattugliamento Ah, io non c'ho tempo Solo quello c'è Ebbè quello si potrebbe fare, dai No, è scoppa Giulia All'oponno Dove è Skull? Dove è Skull? All'oponno Dove è Skull? Dove è Skull? Mesa la cinturata E lui te li fuori All'oponno Ok, sull'oponno Mi ricordo Mi ricordo Che Gimbo sta sta qui All'oponno Ah, sì Ma perché mi dà la spia dell'olio del motore? Eh, perché ha dato una tramvata Sono uscito fuori dal cruscotto Ma io la vedo integra la macchina Ah, perché? La spia dell'olio del motore Ah, sì Me l'ha rotta davvero, eh Ah, ma dai Figaro Guarda questo contromano Niente Devo chiamare l'acci Sì Posso farmo rivedere questo Quest'altro là Dice andare a te Il radio dall'acci, Simo F***a, ma come non ho un telefono? Non ho un telefono Devo andare a comprarlo Simo, dai, vai te in radio all'acci Che palle, dai Che ma corri, che cazzo corri? Eh, perché così mi metto in parte F***o siamo al... Eh No No, dai, digli che vado da lui, dai Niente Ciao, perdere Vabbè Vabbè Sì, ma non è possibile che mi si rompa la macchina ogni due secondi, eh Hai preso... Hai preso la lancia di Atelier Hall Che cazzo tu hai preso Eh, Presidente Avanti Psst Eh, d'acqua che ci sono io e il... ...e il... ...il Sopresidente Callo Eh, ci autorizza a prendere gli allievi con due volanti Certo Affermativo Psst Grazie mille non c'è attenzione intendente, non lo so, se vi volete grattare le palle user, join your channel mi raccomando, eh, gli allievi guidano voi capi pattuglia io facevo fare i capi pattuglia anche gli allievi per fargli imparare un po' no, no vabbè, per fargli imparare solo per quello, ma non l'ho più fatto dimmi, Romano eh, c'è un allievo che non ha l'occupaggiamento di servizio mi ha crashato, eh mi ha crashato diciamo, digli di fargli vedere dove andare a prenderlo l'occupaggiamento che cazzo eh, ma io ora, aspetta che mi sto appisciando eh, quando sei in questura vieni che ti faccio il colloquio sì, ma non ci sei non fa niente, se noi vediamo che sei seria, anche se non sai niente, la polizia ti prendiamo lo stesso, non ti preoccupare e lì, fate due domande perché ti avevamo rifiutato il bando in polizia sì, eh non vedo l'ora io user left your channel channel switched user joined your channel user left your channel vai di pomodorino nooo nooo no, sei un po' giorgiore ale to ma Jimbo, onde è andato? è lì in strada mi è andato a piedi segreti, è andato a fa no, non so dove sei tu ah, io sto, sto dentro user left your channel user joined your channel aspettiamo un settimana rientro pure io ma io la vedo giusta la macchina user left your channel ah si è cresciato anche te fanno una volta vero no? no sono ricrasciato un'altra volta eh e voi come facciamo? e non ci passiamo e ho capito ma se siamo lì ti fanno se la corsa user left your channel ma chi è? ma dire che non mette essere i mod che non servono anche azze i mod grafici tu sai perché mettono gli fps boost? perché mettono le mod grafiche gli si abbassano gli fps e poi oddio vediamo se lasciamo rientrare oh eh Sì ora metti via subito non hai neanche idea quando entra ti fa pure a me sei entrato io sono appena arrivato là vicino ora io ce l'ho tippato via ma pippa pure a me è tanto storia user left your channel scusa ah dirigente è lei? dica si che devo da fare io? fa lei con l'acide revisioni no no passa un'altra volta laci user join your channel passa un'altra volta? si si passa un'altra volta ma qualsiasi centroveicolo non è per forza questo eh eh allora taggile uno va uno solo le serve? eh si facciare un po' torno vi porto quella e me ne fa eh non ti vedo neancora io va bene dai ci sei? si riesce a spostare pochettino dirigente se no le casca l'auto eh ecco la illumino di mente user join your channel ah lei parla ma proprio parla user left your channel pst dirigente io gli ho chiesto di spostarsi eh eh si io non mi sono spostato aspettavo un secondo no era un problema perfetto lo sapete che questo avicolo adesso se me lo porto via non lo posso usare vero? ok percanzo io gli ho chiesto di spostarsi eh io gli ho chiesto di spostarsi eh andrò senza manco un graffio eh pst se lei lo sa invece che è un ausveicolo statale si meno male pst buona fortuna user joined your channel pst che era quel bobo? user left your channel pst user disconnected from your channel user left your channel pst oh torna indietro con il camion dove stai andrando? user joined your channel pst non me lo posso portare io dobbiamo metterlo sul camion user left your channel pst tocca che vieni che lo dobbiamo caricare quindi torna indietro pst pst vai 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 ragazzi pst user joined your channel pst non vi vedo sull'applicativo nella sezione delle vostre volanti per quelle in servizio pst perché le volanti le stiamo performare siamo in sala presa intelligente pst 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 ho lavorato no no lo so all'altro ragazzo voglio svedere un attimo se riesco a vedere user joined your channel user left your channel mamma famo salto simon hai messo la cintura? beh salvatore rina in servizio hai sentito il ragio simon? certo salvatore rina sei l'emblema di tutta la polizia italiana guarda user left your channel non sono rispettore non sono rispettore lei dove si trova rina? spero un galera user joined your channel e nell'applicativo del barco e zura lei dove si trova? spazzo nella città? no io sono appena entrato in città user left your channel invece signorina io vorrei sapere chi è che gli ha fatto il colloquio questo cognome io mi seguo il cognome là un genio vabbè sta macchina via facciamola sequestrare prima di subito facciamo bene proprio bene user joined your channel pure oh user left your channel tutto a posto signore 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 tutto a posto? aspetta che chiamo il cello 18 va devo mettere la divisa elegante va bene con la successo pst 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 come? no rimanga nel veicolo che chiamo 118 invece del fuoco rimanga dentro adesso un attimo di piano user joined your channel rimanga nel veicolo oh user left your channel signore si muove veni qua te si si ma che pieto chi è no stiamo a 118 intanto ah ps per 118 user joined your channel pst user left your channel 10% di 18 pst avanti allora ragazzi mi servirebbe una vostra ambulanza al civico 8050 sul posto presenti polizia di stato per un incidente stradale pst ricevuta chiamate il fuoco metti che ha preso la botta al veicolo ricevuta adesso arriviamo alla chiamata rimanga qua dove va 8050 praticamente al vera centrale pst ok appa arriviamo subito pst ah il vicefoca io non c'è la ringrazio l'arma si distanza pst oh io non lo sento parlare questo eh oii user joined your channel ma vabbè stavo porto a via va qualcosa da dichiarare su questo video user left your channel user in your channel timed out porto user left your channel ma dove va adesso un attimo che arrivano i video del fuoco user left your channel guarda ma io lo lascio a giù l'arino che è più contento ma io non so chi è eh dunque guardi sono arrivato user joined your channel grazie ragazzi non so se eh per voi dare il tuo mobile se ci è riuscito a dare una mano spostate 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 allora sto ragazzo è uscito fuori strada con sto furgone nero un muro l'abbiamo intimato di rimane dentro per la sua sicurezza a quanto pare no è uscito non parla e sta qua vicino a noi quindi se ci potete pensare pensare voi una cortesia l'affare che ne fa un controllo si ma eri riuscito a controllare lui vedete anche se parla no ma guardi che non è questa la macchina eh vigile è qua dentro pst mi apri mi vuoi dare un documento signor ah è quello ah ok l'ACI che numero è? 8 di vai l'angelo abbracciare PS per ACI 8050 Lamborghini azzurra da rimuovere 8050 ciao ragazzi il getto è questo le sirene le sirene le sirene sirene ok signori non volete spostare si si ci spostiamo salve posso parlare con il giovane è questo qua lo sede di bianco è lui? si non parla è muto o magari è sotto shock se volete portarlo via signore abbiamo provato a parlargli ma è vero che non parla è uscito da solo dal camion dal fulgone ma dovete venire pure voi mi hanno pure detto che vieni dentro qualche cosa ti rotto sicuramente lei lo tratterà meglio di noi immagino un signore qui si si questo signore è qui vero? si si questo signore è qui va bene è muto? è mutuo si da quello che so è mutuo ah no ma tu sei capitano tu sei l'altro scusa ah eccolo questo con la 50 euro comunichi c'è qualcuno altro dentro nel camion? boh no credo di no scusi però non siamo arrivati dopo c'è nessun altro dentro nel camion? non ho visto nessuno guardate è meglio controllare perché non lo sappiamo questo la facciamo un portatore via ciao questa è da portare via poi dopo fa un altro giro e c'è un furgone da dentro da prendere un furgone? si questa è una macchina da portare via poi c'è un furgone qua dentro ok ma perché non parla la gente c'è cosa ci trova di bello? non lascia perdere guarda guarda vabbè con l'occhio viola già ho visto il nome e già mi viene guarda ah con l'occhio viola ok 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 bene si si sta con l'occhio viola è vero me l'ho scordato che famosimo qualcuno controlla l'interno l'avete già controllato il porta oggetti e il bagagliare l'ho controllato io noi l'abbiamo aperto quindi è apporto? si 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 stanno chiamati? si lo avete già chiamato? lo sanno lo sanno è stato portato via questa e poi ritorno a prendere l'alzo ok stiamo in sicurezza la macchina ora va buono ciao ragazzi arrivederci grazie grazie a voi arrivederci salve salve stiamo capitano andiamo ascolta io riprendoci sempre va fatti ecco user left your channel va piano a farò un giro in costura va mi sa che stanno uscendo io sono ancora tutti qua siamo al completo? no manca ancora il collega della San Paolo no allora ciao ciao questore ispettore dirigente c'è qualcuno? avanti dirigente guardate che c'è un colloquio da fare a breve ne sono già a conoscenza mi stavo preparando me l'hanno detto poco fa check volante 15 check volante 15 check tuscolano check tuscola check usciamo eh, uscimo non sonori, non sonori, non sonori senti 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 user in your channel timed out user joined your channel no vabbè dai se buggano pure ecco perché lui sente diciamo ogni volta il piano non righe ecco icon odio 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 user in your channel timed out user joined your channel Psst, ho preso il rosso. Psst. Psst. Discivuto. Buon partimento a tutti. Ma che guardi? Dove? Detto dietro. User left to channel. La gente verrebbe all'improvviso. Eh. Certo. Quindi adesso andiamo all'autostrada, andiamo a nord, signora. Ah. C'è questa gente in mezzo al cazzo. C'è molto il telefono. Ah no, devo andare a comprare il telefono. Ok, grazie Red Fox per il follow. Non lo so. Devo andare a comprare il telefono. Eh, devo andare a comprare il telefono. Simone. Oh no. Vedi che arriva una chiamata adesso di una sparatoria in mine. Eh. La Torcolano va in zona ospedale per il telefono. Sì. Dai, però. Si è ribattata da sola. Vedi che non hai neanche un graffio. Sì. 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 Suoniali il telefono a te. Eh lupo. Dai, andiamo a fare una live, eh. Un cazzo. Il più tempo che sto sotto sopra... Ahahah. Ahahah. ho acquistato iphone 12 con successo un messaggio infatti vedi non so per quanto ne abbiamo preso a questo l'ho fatto a forza eh e questo invece che sta facendo i boh i boh i boh non so dove si veda no ho 16 litri user disconnected from your left your channel no no quando arrivano senza chiamiamo qualcuno user joined your channel no no di nuovo user left your channel user left your channel sta crescendo al mondo però vedi adesso guarda guarda sta crescendo tutti user joined your channel si io no noi no user joined your channel user left your channel user joined your channel eh ho stoppato il telefono user left your channel user joined your channel user joined your channel user disconnected from your channel eh c'è il filtro di minori tu no ho dovuto mettere quello per i maggiorelli per lupo eh per forza perché sennò la bestemmia è partiva no user left your channel user joined your channel user left your channel user joined your channel user left your channel ok lui possiamo fare il cambio di market come me lo dici quando vuoi oh 70 euro 72 euro ma che detto resivo user left your channel ma vabbè ma facciamo sto in live sto in live oggi c'è regge c'è regge c'è regge pensavo che user joined your channel no no user joined your channel user left your channel oh no no stiamo andate a toccare il cazzo non vengo tanto sto entrando ancora eh vabbè aspetta prima che arrivo sono a nord eh vabbè sì eh vabbè bloccavo tutti metti il punto ci muo perché non so dove sia io eh punto non manco io aspetta che mi hai detto qual era quello in basso eh user joined your channel user left user disconnected from your channel allora eh Mangotti l'altro ragazzo ha appunto user joined your channel user joined your channel c'è Mangotti ha fatto buff e te metti ma che c'è successo ti hai chiesto un altro non c'è ma no è la stagna user left your channel user left your channel cazzo ma speriamo solo tre solo tre sono 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 solo tre ok ok user joined your channel stavolta non ho fatto niente eh stavolta non ho fatto niente ho fatto da solo user left your channel prima avevo solo rinviato lo script ma perché non andava però user joined your channel quelli che ce l'avranno che hanno voluto poi eeeh non andare sto ancora entrando non torno non torno ma avete aspetta quanta me la fai dopo la parte crashi crashi al t3 arrivo arrivo chi è che è buffato quant'è che l'hai pagato quelle qualsiasi user left your channel quanti soldi l'hai pagato quello quanti soldi l'hai pagato eh non lo so tipo 500 eh non mi ricordo tipo 500.000 mo te lo dico fermo questo fermo questo oh ma ecco sono buffati tre colleghi appena rientrano riformatevi le battuglie come eravate oriotti 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 no ma devi fermarlo sta laggiù lupo market hai comprato una ma ne quante ne hai comprati due hai già comprato il secondo hai già comprato no ho presi due basta poi te vuoi quest'altro shop number mi sa che è quello vabbè ho 275.000 comunque comunque c'avevo ne ora 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 sì sì no vabbè mo nella 2 ce l'avevo io quello là però vabbè rapida il negozietto siamo sali eh sto io no non qua non te c'è un'altra user 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 si converga una sola volante di voi di voi ma vai andate a rapida al negozietto vai user join turciano no spero pss pss digli che andiamo noi Simo user left turciano tuscolano converge alla rapida che cazzo siamo noi no digli di no tuscolano no parla betacomo diglielo pss pss tuscolano lasciate stare va la betacomo non apri il telefono non apri te aspett io scrivo un attio in chat adzio adzio non aprite il cellulare user joined your channel user left your channel user joined your channel user joined your channel user joined your channel user left your channel user joined your channel sono migliorato un po' nella guida però Simo dai ma io nel quadrato non so capiscono hai la cintura Simo eh vabbè non è crashato non è crashato user left your channel user joined your channel user left your channel user left chanel ok posso ho capito solo due però io gliel'ho scritto che potava dare quel problema ok adesso dovrebbe essere vissato user left your channel ma quale film è all'epo no avevo soltanto io un problema un altro crashato io non è c'è io sono dentro oddio non c'è nessuno simone come solito no sei volato indietro user joined your channel magari con la pistola simone che dici no c'è bisogno scema faccio allarme per la rapina non mi fa andare avanti simone adesso si aspetta che devo fare così qua aspetta devo fare così adesso buongiorno simone che sta arrivando un ultimo per fare il colloquio guardate che sta arrivando sta arrivando una persona a fare il colloquio non ne avevo dubbi user user left or channel a con di di ora adesso da quante persone che sta arrivando per la precisione doveva arrivare un'altra un'altra la di di due o tre Sì, buon lavoro. No, per un brazzo, due o tre persone. User left your channel. User left your channel. Ultimo. Sì, niente di meno. Cosa ha detto? Speriamo non di nome e di fatto, se no qui siamo rovinati. Spero da qualcuno anch'io. Va bene, sta arrivando anche la ragazza. C'era una bella fila fuori, dai. Alla ragazza veniamo anche noi. Eh, diggielo. Alla ragazza veniamo anche noi. E' presto, prima che arriva. Ci vuole un po' di tempo, ha problemi di città. Va bene, quando entro... E mica se volevi, pioi. No, devo passare davanti al Colosseo, se no. Eh, oh, basta, ce l'è tanto qui, ecco. Entrato, Paul. Psss. Vai. Mi fa crashare il Colosseo, mi fa crashare? Io mi son tipato direttamente, non lo so neanche provato adesso. Non lo so, non lo so. Poi dopo vediamo, ma l'ultimo di problemi è qua. Mi fa crashare o tolgo? Eh, di nuovo una rapina nel negozietto, Simo. Oh, non hai capito, sono io! Ma perché rapinerà sopra allora? Perché il beep? User, join, join, join. C'è l'uno sopra l'altro. Eh, lo so. Allontanati voi. Così che fai che nascondi quello e quello sta vicino. Funziona, bufio. Ma ti allontani poco poco? No, è un mutaggio, ce l'ho provato. Oh, io l'ho fatto prima. Ma come, è possibile che tu stai rapinando qua e arriva là sopra? Quello è il problema, io ne ho. Niente ragazzi, tranquilli, falso allarme. Mi sono pure buggeato così. Dirigente, quindi conferma che arriva la ragazza, vi devo chiamare? Psst. C'è sta che qua sto a fare delle cose che... Ho messo lo sfondo di totti. Ok, menu boss, dai, dimmi quando... Arrivo, arrivo. No, basta di mettere l'ID, devo trasferirci a te. ID... 106. Ah no, per poco 104. 104? No, 106. Io ci vado. Dimmi il tuo IBAN che ti trasferisca i soldi in banca. Dovrebbe essere tu adesso. Vediamo un attimo, ti aspetto un attimo. Allora, ti trasferisca i soldi in banca. Allora, qua. Dovrebbe costarti tipo 160.000 euro? Eh, sì, 135, 165, mi ricordo. Tuscolano torna in questura per un cambio veicolo. No, dimmi il tuo IBAN. Eh, oddio, non lo so. User joined your channel. Eh, c'era sul telefono. User left your channel. Eh, aspettate, mi stoppisce. Anzi, no, dimmi il tuo ID, dimmi il tuo ID, se no. Eh, non lo so. Ah, guarda che non c'è più neanche l'ID del punto di domanda, eh. Il punto di domanda? Sì, eh, l'ID di lupo è 75. Ma tu, che callo qui dentro? Cos'è che c'è in aria lì che sta volando? 175, eh? Sì. No, 75. Ah. Perché ci sono i carabinieri che stanno survolando l'autostrada con l'aereo? Con l'aereo? Sì, è con l'elicottero. C'è un aereo. Ah. Sì, ma hanno solo i carabinieri che è aereo, poi ho finito. E' arrivati, lupo? Penso che sì, tanto io sto al bagno, l'ho detto, quindi. Ma non ti preoccupare, comunque, là non è un problema. Tanto se le chiva come faccio io. Sì, ma tanto poi ruba la cimbo, sì, il cazzo. Ma poi sì, ma poi. Apposto, 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 apposto. Io, anzio, se sta. Poi ci metto a prendere le manette, in realtà. Ecco. Ma io devo andare a mettere, tipo, la metà dei miei soldi e adesso vado in banca. Ritiro un po' e vado a mettere almeno 200.000 euro, i personali miei, nel conto della polizia, perché. Certo. Ho capito. Ragazzi, tutti vedendo. User left your channel. User left your channel. Guarda, depositati un milione, depositati 400.000, depositati 90.000, 100.000. Ritira. Tutto l'anno, riprende il normale pacchimento. 25.348. Non è abbastanza solida la banca, o un milione. User in your channel timed out. User entered your channel. Ok, allora. Non mi fa salire, Simo. Dove? In macchina. User joined your channel. Ah, mi sto alla tua sportella. Sei crashato tu te? A posto. Ti aspetto qui. Mesi. Non mi fa salire, 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 non mi fa salire richiesta di supporto per il civico adesso che tu sei crashato c'è un un inseguimento in corso io sono fermo arriva anche la beta ditemi civico aggiornatemelo l'ultimo avvistamento civico armeria cappa abbiamo di nuovo quel camion che succede qua dov'è che l'ha visto rubare il camion al negozio al negozio dal civico cambiando con il 90 47 l'ho visto proprio salirci sopra hanno rubato il camion e il furgone grigio l'ha visto che rubavo avete controllato di chi è questo camion allora come facciamo a dire che la persona ha rubato una macchina abbassi le mani avanti posso spiega li si vedrà avanti siamo a 98 dei carabinieri in volo in caso di inseguimento non è stata chiamare si alzate che mi stavola via il cappello ferma dio ferma dio non si arrabbi dirigente generale mi potrebbe dare un documento per giuare lei grazie è lui? no non è il proprietario di no non è il proprietario sì ma ragazzi ma prima di accusare la gente bisogna essere sicuri si è scoperto sapere che ho capito ma cosa vuol dire se non penso che sia lui lei l'ha preso ascolti mi dica la verità dove l'ha preso sto cazzo il veicolo l'ho preso non prima poco prima del negozietto e quindi non è scuola rubato no non è che l'ho rubato l'ho semplicemente preso e mi serve un mezzo di trasporto quindi è rubato più o meno è rubato a tutti gli effetti non è più o meno l'ho trovato mezzo distrutto così mi servia solo per fare qualche metro eh vabbè mi è andata male dai ora lasciamo perchisiamo e prendiamo possibili armi oggetti vari telefono radio lasciamo da mangiare lasciamo acqua cibo soldi ma l'ho fatto nudo pss 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 user joined your channel pss pss user left your channel anche la torcia prendiamo pss 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 ma perchè quello sta che l'elicottero oh non lo so perchè se hanno visto me che correvo con le sigre dei nevi sono venuti dietro ma chi perchè sta con l'elicottero quel lato carabinieri no noi polizia no sui carabinieri io ho visto l'elicottero dei carabinieri prima in volo a carabinieri quello si con buonanni user joined your channel 15 rimani lì e aspettare che arrivi là ci chiamalo per piacere non andare in giro pola pola sì dimmi mi sa che lo puoi risolvere solo te sto coso vai esposto user joined your channel 15 user left your channel san paolo san paolo liberate il soggetto adesso il testore l'ora user disconnettato l'uomo 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 io sto bestemmiando da 20 minuti ah io sto da cellulare capirai sto al lavoro user joined your channel vede condivisioni che scoppio ah 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 jimbo eh guardala te user joined your channel vengo cosa devo fare guarda la condivisione guarda la condivisione guarda la condivisione user left your channel eh ah sì ho pulito le cache e tutto mi fa ancora così eh eh c'ho nel culo esatto ecco ma è proprio il rumore che si c'era anche là ah ok è proprio il rumore dove c'è paolo ah men io sono in live comunque a fare di niente ah ok e supporto 3 dovrebbe essere andato a finire adesso facciate così supporto 3 che sono anche scule sì sì ora ragazzi grazie per essere anche oggi un'unica nostra compagnia eh tra un crash un inseguimento una roba varia eh ma l'ho libero? sì sì fai come ti dice in quest'ora fai come ti dice grazie per essere anche oggi in nostra compagnia ci vediamo domani con una prossima live basta e e buona serata a tutti da San Paolo riprendendo ringraziamo il lupo che è rimasto con noi e buona serata ciao belli grazie a tutti ciao 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 Grazie a tutti